C'è una buona pratica da diffondere in agricoltura, raccogliere e trattare i rifiuti plastici prodotti dalle attività di questo settore. Una vera e propria mission da compiere con il progetto iWorld, promosso ed organizzato da IFOA e finanziato nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea Italia-Grecia per il quinquennio 2007-2013. Un cammino che muove i primi passi anche nella BAT, grazie al seminario su come gestire i rifiuti plastici agricoli organizzato ad Andria, dove si è parlato del processo di raccolta e trattamento dei rifiuti agricoli, di come diffondere la conoscenza e la consapevolezza relativamente alle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti plastici in agricoltura e promuovere la nascita di nuove imprese nel campo della raccolta e del riciclo di questa tipologia dei rifiuti. Dalle parole ai fatti, il passo è comunque breve perché, come spiega Vito Brugnola, responsabile del progetto Award dell'IFOA, nel territorio della BAT non sarà necessario, come spesso avviene, sotterrare i rifiuti plastici. Da un lato c'è la vecchia pratica, diciamo pure, del bruciarli sul campo, interrarli eccetera, dall'altro c'è lo sforzo che noi chiediamo di raggiungere dei punti di raccolta, quindi un venirci incontro in qualche modo. Questo progetto vuole realizzare questo modello, quindi informiamo, a cominciare da oggi, gli agricoltori su come devono correttamente smaltire i rifiuti, soprattutto di natura plastica, gli daremo indicazioni sui punti di raccolta dove è possibile, per un periodo limitato della sperimentazione, provare appunto a questo incontro tra chi ha il bisogno di smaltire e chi può valorizzarlo.